Quello di difendere le donne in pericolo è un precetto della mia famiglia. Lupin, sei tu! Chi sarà questo Lupin? Signorino Lupin. Immagino abbia causato altri guai. Perché volete decidere come devo condurre la mia vita? E soprattutto, perché cavolo pensate che vi ascolterei? Non sono un signorino di buona famiglia che gioca con il fuoco. Io faccio solo affari. La vita di un ladro non è fatta, solamente di belle conquiste. Ricorda che si perdono anche moltissime cose. Quindi anche tu hai perso qualcosa? Vai. Dopotutto lui è l'unico che può diventare degno di seguire le mie orme un giorno. Devi scegliere Lupin, ti ritirerai o avanzerai. Alla fine. Grazie a tutti.